Claudio, ti ricordi di passare in lavanderia? Ah, tesoro, e mia madre sta ancora aspettando di sapere a che ora puoi accompagnarla al fridge. Sì. Mi chiama, mi chiama, mi chiama, non mi chiama. E poi, ti sarebbe l'attesa da fare, ti ho inviato la lista sullo smartphone. Grazie, amore. Ci mancava solo questa. Buongiorno, giornalisco a patente e libretto, grazie. Eccoli. Ma sai che tra qualche giorno non riesca a dare la revisione, vero? Vabbè, nessun problema. La prenoto subito. Ecco, fatto. Molto bene. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Ah, non si dimentichi le uova.